Non conosce soste l'Accademia d'Alessandro, la scuola di Taekwondo a Tripaldese sarà di scena ad un evento di livello internazionale. I sabatini si confronteranno in Slovenia all'Open G1 World. Quattro allievi in gara, Erminio Pilunni per i meno 80 kg, Pietro Pilunni per i meno 48, Raffaele Carenza per i meno 59 e Luca Pastore per i meno 63. Un atleta molto valido, allievo del campionissimo Azzurro Umberto Pastore della SD Academy. E' quello di sempre, cercare di fare bene e portare delle medaglie importanti a casa. Questo per dare dei messaggi importanti anche allo staff nazionale, il quale vogliamo sempre di più attestare il valore dei nostri ragazzi, attraverso i loro sacrifici e attraverso quelle che saranno le loro medaglie conquistate. In questa occasione avremo un bel po' di atleti, di cui tre sono i miei ragazzi cresciuti nel mio vivaio, ormai li conosciamo già, Erminio Pilunni, Pietro Pilunni e il neocampione italiano Raffaele Carenza. E poi avremo un atleta che sto seguendo da un po' di tempo, molto bravo, molto valido, atleta della PST Academy di Capaccio, allievo del maestro e del campionissimo, nonché poi il fratello Umberto Pastore, quindi Luca Pastore sarà con noi e disputerà la gara nella categoria 63 kg senior. Quindi insomma quattro atleti, tutti di ottimo livello, ci aspettiamo di far bene. Parola al miele per l'amico Carmine Tommasone, reduce dall'incontro mondiale a Frisco contro il messicano Oscar Valdez. Amicizia e soprattutto stima, che credo sia la cosa più importante, e soprattutto il rispetto, quindi abbiamo un rapporto davvero importante. Carmine ha fatto la sua grande gara, lo sapevamo noi da tifosi e da fan, lo sapeva benissimo lui che era comunque una competizione molto molto difficile, ma Carmine già sapevamo che sarebbe andato lì senza tirarsi indietro e lo ha fatto, pur andando al tappeto diverse volte, ma sapevamo insomma, ripeto, il valore di Valdez, ma non ci interessava. Anche io nel mio piccolo ricordo la mia impresa fatta nel 2011, i test preolimpici a Londra, in casa contro il campione del mondo inglese, quindi ricordo solo che quando entrai nel palazzetto e dissero il mio nome, partì qualche applauso sterile. Quando dissero il nome di Aaron Cook stava per venire giù l'ex London di Londra, quindi so bene già cosa significa entrare in uno scenario del genere. Carmine l'ha dato tutto se stesso, per me Carmine è un campione al di là. Vedete, non sono soltanto le medaglie ad attestare il valore di un atleta, ma quelle che sono le sue geste, i suoi istinti, il suo carisma, il suo modo di fare, il suo fair play, perché poi Carmine, voglio dire, credo che abbia riscattato un po' la box ma a livello nazionale, nel senso che è un ragazzo pulito, professionista, sempre pronto per ogni competizione, quindi credo che da Carmine si possa solo prendere qualcosa di più.